Perdeva tutto quello che era il risparmio e dunque si protestava e Guastalla cominciò a protestare con la gnoccata. Per una giornata veniva deposto il potere ufficiale e veniva messo al posto dei potenti di allora un re pancione scelto tra la popolazione che per un giorno dava in omaggio a tutti gli gnocchi, non erano gli gnocchi di patate che mangiamo oggi, erano gli gnocchi fatti con l'acqua del po e la farina che veniva regalata dai pugnai.